Grazie, grazie a tutti. Grazie per aver guardato il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Si era l'indicato, ho detto che con me si connessi, non si chiede un braccio che dà più agire a un po' la natura a mangiare. Ciò non si tratta mai. La mia connessione è un bambino che dà più di un raggio, ma la mia moglie di fare un po' la mia comune. Questa notizia, il bene è un bacino, sia un pescello con lui, Il giudice è una buona, e poi c'è il nostro cuore che è il maillac e si non si può funzionare e si può tratturare e si può tratturare, si può fare un po' di mezza qui è un po' di mezza.